Allora ringraziamo di tutta questa assistenza, di tutta questa accoglienza, di tutto durante il percorso, siete stati premurosi, ringraziamo e speriamo di rivederci ancora presto. Voi in Italia? Rossa? Rossa? Rossa, rosa, rosa, non sappiamo che colore è. Rossa, no, bravissimi, siete stati veramente splendidi, molto simpatici, l'unica cosa è che Razio non ride mai, è sempre serio, ma so traducilo. E no, siete stati veramente, le guide erano molto brave, molto premurosi, molto preparati tutti. Siamo molto contenti di essere venuti a vedere questo bellissimo paese, siamo contenti della vostra collaborazione, della vostra agenzia, Monte Rosa Trekking, è stata perfetta qui in Nepal, ci siamo trovati benissimo, grazie a tutti.